La creazione valorizzativa La creazione di una nuova destinazione turistica sostenibile e slow nel territorio delle Serre e Preserre Calabresi è l'obiettivo del progetto Le Montagne del Sole, promosso quale ente capofila dal GAL Serre Calabresi e finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito della misura Montagna Italia del Piano Sviluppo e Coesione. Di circa 1,8 milioni di euro è il contributo che corona il lavoro di un partenariato composto assieme al GAL Serre Calabresi, quali soggetti proponenti da Sognare Insieme Viaggi, Sheryland SRL, Società Benefit, APS Guide delle Serre Onlus, APS Trekking Stilaro, Hotel Città del Sole, Associazione Riviera e Borghi degli Angeli e l'Associazione Italiana Sommelier Calabria. Da soggetti pubblici riferibili alla montagna, quali Unione dei Comuni del Versante Ionico, Comune di Sera San Bruno, Comune di Stilo. Da enti esponenziali dei cittadini attivi, quali Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, WWF Provincia di Vibo Valencia, Vallata dello Stilaro e International Federation of Business and Professional Women. Le caratteristiche di questo nuovo prodotto turistico sono state illustrate in conferenza stampa. Si tratta di un progetto che andrà ad incidere su un territorio che va oltre l'ambito del GAL, che già banta circa 28 comuni a vocazione montana, su un territorio unico di forte valenza ambientale per la sua biodiversità, per la presenza di aree protette e zone speciali di conservazione, su un'area posizionata tra la Spromonte e la Sila, in uno dei punti più stretti della Calabria e d'Italia, dalle cui montagne si può godere della vista sia dello Ionio che del Tirreno. Un territorio ancora connotato da un'atmosfera di grande spiritualità, per la presenza della Certosa di Serra San Bruno, dalla presenza di aree archeologiche, delle antiche testimonianze di un passato industriale, rappresentato dalle ferriere di Mongiana, per realtà quasi scomparse come il lavoro dei carbonai. Si vuole trasformare un valore potenziale, ha spiegato il presidente del GAL, Serra e Calabresi, Marziale Battaglia, in un fattore di competitività, in un momento particolarmente propizio in cui la Calabria suscita tensione e interesse. Essere riusciti a mettere assieme pubblico e privato, imprese, operatori turistici ed entino profit, indica che il tempo è immaturo, che c'è un cambio culturale che negli anni è mancato. La nuova meta turistica intende essere strumento di valorizzazione e integrazione di tutte le risorse agricole, enogastronomiche, paesaggistiche, storiche e culturali, il che comporta in un'ottica di attrattività lo sviluppo qualitativo di beni e servizi esistenti e la produzione di beni e servizi aggiuntivi, che rispondano a diversi target di visitatori, ponendo attenzione e priorità alla fruizione da parte di soggetti fragili, poiché l'accessibilità è trasversale a tutti i tipi di turismo, ha osservato Fernanda Cerrato, esperta del settore consulente CEI e già docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, che nei prossimi giorni, nell'ambito del medesimo progetto, terrà un corso rivolto ad operatori del territorio presso la sede del Parco Regionale delle Serre. Si vuole ancora favorire e promuovere un turismo sostenibile, lento e esperienziale, in cui il turista diventi viaggiatore e cittadino temporaneo ed entri in una relazione di qualità con le comunità locali. Mettere insieme tutto ciò che abbiamo scritto è la vera sfida, ha osservato Angela Donato, di sognare insieme viaggi, che ha evidenziato il grande lavoro di squadra e di condivisione di esperienze per la redazione del progetto. Un nuovo concetto di turismo, entro il quale la comunità, nella sua autenticità, ha osservato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, assume un ruolo centrale nell'attrarre ed accogliere un turista di nicchia e di qualità. Tra le azioni che saranno intraprese è la creazione di un centro di coordinamento e gestione del progetto, attività di informazione, comunicazione e promozione, percorsi di formazione per accrescere la capacità di accoglienza, digitalizzazione del patrimonio naturalistico e culturale e realizzazione di un hub territoriale con strumenti digitali integrati per la tutela, valorizzazione e promozione dei borghi di montagna e del paesaggio rurale e la promozione dell'offerta turistica, percorsi di mobilità dolce ed esperienziale, recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio montano e rurale per la realizzazione di itinerari di mobilità sostenibile, percorsi del gusto e la creazione di hotspot in punti strategici a servizio della Smart Electric Mobility. Si prevede ancora la definizione del piano turistico strategico territoriale con relativo marchio d'aria e disciplinari per valorizzare l'identità e la riconoscibilità del territorio. Le iniziative intervengono rafforzandone l'azione nelle linee di intervento di altri progetti, come i tasselli di un mosaico, ha osservato il direttore del GAL Gregorio Muzzi, che si intersecano per creare un disegno perfetto. Tra questi il Costituendo Distretto Turistico, Riviera e Borghi degli Angeli, di cui è capofila Unione dei Comuni del Versante Ionico, la programmazione di sviluppo rurale del GAL Serre Calabresi, che ha già attivato sinergie con partner europei Ungheria, Grecia, Spagna e Francia, la strategia dell'area interna versante Ionico Serre, di cui è capofila il Comune di Serra San Bruno, il potenziamento di percorsi ciclabili lungo la ciclovia dei parchi della Calabria, la strategia del recupero e valorizzazione dei centri storici dei Comuni di Pazzano e Stilo, finanziati dal Bando Borghi, Ministero Cultura, la strategia della Green Community proposta e approvata dal Bando PNNR, per l'area interna del versante Ionico Serre, capofila il Comune di Serra San Bruno. Diverse le voci che sono intervenuti ancora nel corso della conferenza stampa e che hanno illustrato nei molteplici aspetti la valenza e la portata dell'intero progetto, Luigi Alberton e Maria Cristina Leardini di Sherryland, Giorgio Pascolo, presidente dell'Associazione Guide delle Serre e componente dell'Associazione Trekking Stilaro, Francesco Passarelli, operatore turistico, Antonio Fusco, presidente regionale dell'Associazione Italiana Sommelier, Francesco Leto, presidente dell'Associazione Riviera e Borghi degli Angeli, Giorgio Antonio Tropeano, sindaco di Stilo e Don Orazio Galati, rettore del Santuario, Maria Santissima delle Grazie, editore di Ruggero. Abbiamo avviso che a questa scuola, appunto, il giorno di Tati Soverato c'è un bellissimo progetto all'orizzonte che però, essendo appunto della provincia, può dar lustro anche agli altri paesi del comprensorio. Le sue impressioni, presidente? Assolutamente sì. E intanto buongiorno. Siamo qui stamattina insieme con i tecnici dell'amministrazione provinciale, su invito del dirigente scolastico Soverio Candelieri, insieme con l'amministrazione comunale, il sindaco Daniele D'Acca, per celebrare quello che è un momento importante, perché poi quando le istituzioni in collaborazione riescono a tenere dei risultati che vanno a qualificare l'offerta formativa, è assolutamente non è improprio utilizzare il termine celebrare, perché la crescita culturale, morale, professionale dei nostri ragazzi e quindi l'eventuale sbocco lavorativo è talmente importante che deve essere, come dire, un nostro punto fermo di riferimento. E in questo la sinergia che gli enti riescono a realizzare per raggiungere questi obiettivi è fondamentale. La provincia è riuscita ad ottenere dei finanziamenti, a valere sui conti PNRR per la realizzazione degli impianti sportivi sui istituti scolastici, e verrà realizzata con un porto di quasi 1.600.000 euro complessivi, questa nuova struttura che è andata ultimamente a qualificare un istituto che già di per sé, come ricordavate, riveste un'importanza fondamentale, e per la città di Solerato e per il comprensorio sul quale insiste. Il basso Ionio è una parte importante della provincia di Catanzare, quindi le attenzioni, come per tutto il resto del territorio provinciale, delle istituzioni devono essere attente e molteplici, perché si cresce e si cresce tutti quanti insieme. E oltretutto diventa un momento importante, non solo perché si qualifica l'offerta formativa, ma diventa anche edificante nel momento in cui ci rapportiamo ai nostri giovani che vedono le istituzioni non più come molto spesso veicolate sotto un aspetto negativo, ma con la capacità invece di interagire proprio per accompagnare la loro crescita in senso positivo. Quindi oggi è una bella giornata, è un bel risultato, e siamo lieti di condividerlo insieme con l'istituto scolastico, con il dirigente, con il sindaco di Solerato e con tutti quanti voi, ma soprattutto a favore di questi ragazzi che hanno assolutamente bisogno di vedere delle istituzioni capaci e operative. Un bel progetto che si profila all'orizzonte per l'istituto, ma anche per il comprensorio. Ci vuole descrivere più o meno come verrà, appunto, come darà alla luce il progetto sport, chiamiamolo così? Sì, come dicevamo prima, nell'incontro che abbiamo avuto, ormai i dirigenti devono ragionare per risultati, e quindi io ritengo che questo sia il primo passo verso il raggiungimento di quello che è un risultato certamente importante da tempo atteso, che va a completare un tassello importante e mancante nella struttura di questo istituto. La realizzazione della palestra assume un significato importante anche per la Valenza, che è un laboratorio singolare quale la palestra rivesta all'interno delle attività scolastiche. Il bacino d'utenza che copre l'istituto Malafarini è un bacino d'utenza molto vasto. Presso la nostra scuola giungono oltre 600 alunni quotidianamente, i quali completano le loro attività antimeridiane con tante altre attività nel pomeriggio, e tra queste un'importanza strategica è riservata alla pratica sportiva. La realizzazione quindi di una palestra non soltanto offrirà ai nostri ragazzi una migliore organizzazione della pratica sportiva. Ma io ritengo che l'apertura di questa realtà a tutto il territorio, così com'è nella consuetudine della nostra gestione, sarà certamente un valore aggiunto. Oggi si ragiona per parti di comunità. Vedere l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale e la scuola uniti per il perseguimento di un obiettivo comune è certamente un buon segnale. Così come un buon segnale è quello di rinsaldare sempre di più il rispetto delle istituzioni, superare quella disaffezione verso le istituzioni che spesso alberga nei più giovani. Lo sport educa la legalità, lo sport aiuta a prevenire fenomeni come il bullismo e la dispersione scolastica. E questo è certamente un obiettivo che insieme attraverso anche questo singolare laboratorio possiamo più facilmente raggiungere. Continua a scendere anche questa settimana il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza si fissa intorno a 88 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza, seppur lieve, alla diminuzione. Siamo ormai a 0,89, quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 7,9 e al 2,3%, quindi assistiamo ad una decisa diminuzione dell'occupazione sia dei posti di area medica e di terapia intensiva, quindi non c'è alcuna congestione delle strutture sanitarie. Pertanto la situazione epidemiologica sembra avere un andamento del tutto positivo mostrando una diminuzione di tutti gli indicatori. Un'alunna speciale, così voglio ricordare Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, che mi sono ritrovata a avere alunna per caso in quarto liceo scientifico qui a Castelvetrano. Erano anni lontani nella mia carriera di docente, ormai sono trascorsi davvero diversi anni, quasi un decennio. Lei adesso è una giovane donna, era già una bellissima ragazza, di lei non dimenticherò mai i suoi grandi occhi neri, i suoi capelli neri lisci, era veramente una bella, bella ragazza. Aveva un bellissimo sorriso, però un sorriso triste. Poi ho capito nel corso del tempo perché questo sorriso di Lorenza fosse triste. Proprio perché portava il cognome della madre, all'inizio non avevo capito che si trattasse della figlia di Matteo Messina Denaro. L'ho scoperto dopo, ho scoperto anche che in classe vi era il cugino, Francesco Panicola, a cui lei era molto legata. Capii che era la figlia di Matteo Messina Denaro, iniziai a mettere insieme un po' i pezzi. Doveva essere difficile per questa ragazzina di 17 anni vivere in una cittadina come Castelvetrano, che in fondo è una cittadina piccola, molto giudicante, che ha sempre il dito puntato addosso agli altri, e che mette addosso lettere scarlatte molto spesso. Penso che Lorenza vivesse questo grande disagio, questa grande sofferenza interiore, perché era una ragazza che aveva diritto ad essere spensierata, ad avere un'adolescenza felice come tutti gli adolescenti, un'adolescenza piena di sogni. Invece questa adolescenza così spensierata l'è stata negata, ma non per una colpa. Lei non ha scelto di essere la figlia di un super boss, lei si è ritrovata ad essere figlia di Matteo Messina Denaro. Eppure ha preso le distanze, ha cambiato completamente vita, ha cercato di riscattarsi da questa immagine, e anche di allontanarsi da Castelvetrano ad un certo punto. Lei è l'esempio che noi dobbiamo dare ai nostri giovani. Il 2022 si è chiuso con buoni risultati, sia in termini di consumi, sia di prodotto interno lordo. Ma il caro bollette e l'inflazione, molto elevata, ma probabilmente in significativa riduzione nei prossimi mesi, spingono l'Italia alla recessione, seppur di ridotta intensità. Non rileva Confcommercio, che nell'ultima congiuntura, stima come il PIL a gennaio, si ridurrà dello 0,9% su dicembre, ma risulterà in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso mese del 2022. L'associazione registra un andamento contraddittorio dell'economia del nostro paese, con un livello di fiducia in forte crescita, che si accompagna però al rallentamento dei consumi. Le componenti più dinamiche della domanda sono state quelle relative alla fruizione di servizi per il tempo libero. Il dato dell'intero 2022 segnala come, nonostante gli sforzi compiuti dalle famiglie e il progressivo ritorno del turismo straniero, per molti servizi i livelli di consumo siano ancora molto distanti dai valori del 2019, che presumibilmente potranno essere raggiunti solo all'inizio del 2024. Quanto all'inflazione, a gennaio i prezzi al consumo dovrebbero registrare un incremento dello 0,6% su dicembre, portando il tasso tendenziale al 10,5% dall'11,6% di dicembre. Resta comunque difficile ipotizzare una crescita dei prezzi nella media del 2023 sotto il 6%. Il 2022 si è chiuso con buoni risultati, sia in termini di consumi, più 4,5%, sia di Pili in progresso, poco sotto il 4%. Tuttavia, caro bolletta e inflazione spingono verso una recessione che comunque dovrebbe essere di ridotta intensità. L'energia costa, ad esempio, il doppio che in Francia. Dobbiamo recuperare dunque competitività ed è necessario rafforzare sostegni a famiglie e a imprese. Continua a crescere nel 2022 la domanda di personale laureato da parte delle imprese, ma quasi in un caso su due la ricerca risulta particolarmente difficile. Come mostra il bollettino annuale del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e Ampal, lo scorso anno la domanda di laureati ha superato le 780.000 unità, arrivando a rappresentare il 15,1% del totale dei contratti che le imprese intendevano stipulare. in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto a 2021. Il 47% di questi profili, però, risulta difficile da trovare, richiedendo alle imprese una ricerca che può impegnare anche 4-5 mesi. In termini assoluti, questo si traduce in quasi 2 milioni di assunzioni nel 2022, per le quali le aziende hanno riscontrato difficoltà, quasi il doppio di quanto evidenziato prima della pandemia. I più difficili da reperire sono i laureati in indirizzo sanitario paramedico, i laureati in ingegneria elettronica e dell'informazione e quelli in scienze matematiche, fisiche e informatiche. Nella 2022 l'indirizzo economico si attesta saldamente in cima alla classifica tra le lauree maggiormente ricercate dalle imprese, quasi 207 mila le entrate previste lo scorso anno. Al secondo posto, l'indirizzo insegnamento e formazione, con 116 mila ingressi previsti. Scende l'inflazione nell'Eurozona. Secondo i dati dell'Eurostat, a dicembre si è attestata al 9,2% annuo, rispetto al 10,1% del mese precedente. L'inflazione annua dell'Unione Europea è stata del 10,4% a dicembre 2022, in calo rispetto all'11,1% di novembre. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Spagna, Lussemburgo e Francia, mentre i più alti in Ungheria, Lettonia e Lituania, dove superano il 20%. A dicembre il contributo maggiore al tasso di inflazione annuo dell'area dell'euro è venuto da generi alimentari, alcolici e tabacco, seguiti da energia e servizi. L'Eurostat ha diffuso anche i dati del commercio estero. A novembre 2022 la stima dell'export nell'Eurozona ammonta a 264,7 miliardi di euro, un aumento del 17,2% su base annua. Le importazioni si sono attestate a 276,3 miliardi, in aumento del 20,2% rispetto a novembre 2021. Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato 11,7 miliardi di euro di disavanzo commerciale. Il commercio interno all'eurozona è salito a 241,5 miliardi di euro nel novembre 2022, in aumento del 16,8% su base annua. Terza domenica per anno, il Vangelo offerto a noi è da Matteo, capitolo 4, versetti 12, 23, sull'inizio della missione di Gesù. Giovanni viene messo in carcere, finisce un ciclo, una missione, adesso si apre una nuova esperienza per Gesù. si ritirò nella Galilea, dice il Vangelo, lasciò Nazare, andò a abitare a Caffarno. Si ritira non perché ha paura, ma per riflettere, per considerare, per vedere quello che deve fare dopo che è finito il ciclo di Giovanni. Caffarno si trasferisce a Caffarno, lascia Nazare, lascia una fase importante della sua vita, i 30 anni vissuti nel nascondimento, nel lavoro, nell'ordinaria attività in casa a Nazare e a Caffarno. Caffarno che è un po' più a nord, vicino al lago di Tiberiade, sulla linea, su una strada romana che veniva dall'Egitto verso la Siria. è luogo di commercio, luogo di incontro, luogo di universalità delle genti e quindi è luogo di periferia, possiamo dire oggi, dove la gente era considerata condannata oppure non possibile aperta alla salvezza, diverso da Gerusalemme, la città in alto. E qui Gesù incominciò a predicare convertitevi perché il regno di Dio è vicino. E' bello, noi di solito partiamo dalla prima, io partirei il regno di Dio è vicino, il regno dei cieli. E' lui che presenta adesso la novità, il lieto annuncio, Dio si fa vicino, è presente tra noi, da speranza. Dio quell'amore, Dio che è operante in Gesù. E quel regno, lo sappiamo, più avanti lo dirà, si manifesta attraverso le parole, le azioni, i miracoli, la vita di Gesù. E questo regno presente in vita provoca la conversione. La conversione per tutti. E' bello proprio cogliere questo invito che non è, non è in un certo senso solo quaresimale, ma è esistenziale. Ed è bello proprio collegare conversione e chiamata dei discepoli. Io ho fatto per vent'anni il formatore e una delle cose che mi aveva colpito e che credo sia esistenziale, lo dicevo ai formanti, lo dicevo anche ai confratelli, formazione è conversione. Non c'è vera crescita se non c'è conversione. E questi uomini, Pietro, Andrea, Giovanni, hanno un momento di conversione. Lasciano tutto, seguono, cambiano vita perché hanno scoperto Gesù. E' quindi un lasciare, un lasciare un passato, un modo di vivere per seguire una novità che diventerà trasformante nella loro vita, nel loro modo. Quindi è da seguire sapendo che il modello, il riferimento è lui che dà a noi una direzione. Seguire vuol dire anche un impegno. Adesso lasciano tutto al momento, non aspettano, non continuano, vanno avanti proprio con questa disponibilità a camminare con lui. E' un cammino che vale per loro, vale per noi. Seguire allora è cambiare in meglio. Grazie a tutti.